Pronto soccorso digitale con il professor Marco Camisani-Calsolari Caro Marco, eccoci qua Iniziamo, anzi, continuiamo a dare consigli preziosissimi per quanto riguarda il pronto soccorso digitale Ora che si tratti di un cellulare complicato, di un computer che non funziona, di un tablet che invece non sapete utilizzare Scriveteci, unomattinainfamilia.it oppure su Facebook o su Twitter E allora caro Marco, abbiamo ancora tante tante risposte da dare Ormai le festività natalizie sono finite da una settimana, però i consigli utili, quelli non finiscono mai Mai, 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 mai Per esempio, su WhatsApp oggi, perché oggi è da poco, che è uscita la funzionalità Ti permette di cercare per nome all'interno dei gruppi Quindi in sostanza quando magari vi trovate a... siete dentro una chat di gruppo dove non ci capite più niente Se volete cercare un nome per raggiungerlo, per toglierlo, per scriverlo direttamente Mettete la casellina, c'è la casellina sopra Cerca, scrivete il nome e trac, appare subito E Marco, adesso io non so tu quanto, insomma, quanto sport hai fatto Quanto hai mangiato durante le festività natalizie Sai, ancora ci sono i panettoni a casa, i torroni Insomma, è arrivato comunque il momento anche di dedicarci un pochino anche alla nostra salute, no? Eh sì Che è, come sappiamo, beneficia dello sport Brava Allora diamo qualche consiglio per aiutare magari a chi ne ha bisogno Sì, e soprattutto c'è il CONI, il CONI ha come propria missione sua Quella di creare valore per lo sport, per lo sport italiano, chiaramente E quindi raggruppa tutte le federazioni sportive E si possono trovare dentro il sito www.coni.it E bisogna andare dentro il cerca e bisogna lì cercare su territorio e promozione Si individua la propria regione di appartenenza E c'è il comitato acquario e rivolgiosi Quindi nuoto, salto con l'asta E chi più ne ha più le merita, dai Sollevamento del mouse No, quello no Del mouse, quello non esiste, quello lo facciamo noi Vabbè Ma chissà se io e te, non che io e te Magari non si scelga di fare lo stesso sport Eh, per esempio, che sport possiamo fare? Sollevamento droni, come si diceva No, salto in alto Sai da che parte? Uno sopra l'altro però Perché uno sulle spalle dell'altro Però, a parte lo sport Dediciamoci invece a quello che è più, diciamo, più famoso Che si ama prendere un po', ecco, in giro le persone Creare bufale Allora, una che circola tantissimo Che non è un'immagine questa volta Non è il mostro sulla spiaggia Ma è quella dell'energia gratuita Il concetto di energia gratuita L'energia non è gratuita Anche quando si parla di stazioni fotovolcaiche Turbine eoliche Dove dici, ma tanto è il vento Sì, però, per andare a creare le infrastrutture Che prendono energia dal vento, dall'acqua Ci vogliono soldi E quei soldi poi i governi Devo chiedere agli cittadini E quindi poi li prendono dalle tasse Oppure se li fanno prestare dalle banche Ma poi ci sono gli interessi No? E così via E anche se dovesse arrivare un marziano E ci costruisse una bella turbina eolica Gratis Poi bisogna manutenerla E quindi l'energia gratuita A me spiace tanto Ma per ora non esiste Niente È incredibile comunque che si continui ad insistere Sempre sulla stessa bufala, no? Magalato sia stata comunque sconfessata Già da tempo Comunque Quando arriva il momento del video curioso Io non so mai che cosa aspettarmi Questa cosa mi inquieta Infatti è curioso Se non sarebbe curioso E allora Hai presente il trucco? Quando vai al trucco e dici Truccatemi prego Oggi le tecnologie permettono di avere quello che vuoi sul viso In questo caso c'è un proiettore Perché questo è quello che vedete Il risultato di un proiettore Come quello che qualcuno ha in casa per vedere i film Che però inquadra E quindi illumina solamente la faccia E soprattutto ha una tecnologia in grado Di riconoscere i movimenti del viso E quindi anche se il viso si muove Un po' Lui sa esattamente dove proiettare E a quel punto puoi proiettare quello che vuoi E gli effetti come guardiamo qua dal video Sono incredibili A volte un po' inquietanti A volte molto tecnologici A volte possono addirittura arrivare Come vediamo qua dietro Proprio a fare A far sembrare il trucco che magari non c'è E quindi questa è una forma di espressione artistica Tecnologica Da una parte sarei quasi curiosa di provarla su di me Dall'altra però inquieta Come tu hai appena detto Però mi inquieta ancora di più Sì Quello che combinate te e il tuo gemello virtuale Se uno è un gemello Ma io potevo avere un gemello così dico Ma io non lo so Una persona così seria Per bene come me Va beh Guardiamolo Colleghiamoci Allora fammi capire Questo l'ho bippato Sì Fagioli Fagioli Fagiolini Fagiolini Il cestino è qua Poi cosa mancava Questo Questo Che frutto sarà questo qui Che cos'è Non si è mai visto un frutto così Va beh Fa niente Lo bippo E via Poi ci sono Ho dimenticato le banane Oddio ho già fatto la casa Aspetta Questi sono i soldi della cassiera Non sono miei Ah caro Marco Qua è un disastro Ma un disastro Io non mi sento tanto a mio agio Con tutte queste cose qua De analogiche Eh io come sai Mi trovo bene Come te d'altronde Nel digitale E quindi in sostanza Davvero la spesa Quando si tratta di fare la spesa Diventa un incubo Invece ci sono un mucchio di aiuti Che arrivano dal digitale Per esempio Lo sai che esiste Un'applicazione che si chiama Supermercato 24 In sostanza Inserendo il proprio codice Di avviamento postale Il sistema Troverà i supermercati Più vicini Che hanno questa sorta di Shopper Cioè Quelli che vanno a comprare Le cose per te E te lo consegnano a domicilio Poi c'è un'altra bellissima Perché io sono poi Per l'ecosostenibile Per il chilometro zero Ce n'è una che si chiama Zolle.it Che lo trovate dentro appunto Il sito www.zolle.it E che si occupa di Aiutarci a scegliere I prodotti della nostra terra Quelli più genuini Quelli più freschi Quelli nostrani E quindi permette Al nostro contadino vicino Di continuare a coltivare Di farci arrivare I prodotti Freschi A chilometro zero Ecco La mia banana Non è sicuramente A chilometro zero Per cui prova queste applicazioni E poi fammi sapere Cosa ne pensi E tu Ingrid Hai mai fatto La spesa online Utilizzando queste Queste applicazioni Sì la spesa online L'ho fatta Ma queste applicazioni Non ancora utilizzate Vabbè Sicuramente Marco tu? Ma io compro tutto online Anche le scarpe Figura di tutto 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 Bravo Vedi lo sapevo Noi siamo gemelli Mica a caso Nel frattempo Io continuo qui A cercare di striccarmi In mezzo a questi codici A barre qua Non si capisce niente Non vedo l'ora Di tornare alle applicazioni Guarda Ciao Buona giornata Ciao Marco Questo è un cestino Togliamo da qua C'ha un da fare C'ha un da fare Il tuo gemello virtuale Comunque è molto interessante Utilizzerò le applicazioni nuove Soprattutto quella a chilometro zero Veramente Arriva Super comoda Esatto Ed ora leggiamo la mail Di Mariano Che scrive Quando vado su Facebook Mi capita costantemente Di ritrovarmi inclusa In gruppi di ogni genere Come posso fare Per evitare che accada Eh Quello è un problema È una sorta È un problema Che tocca a tutti Perché comunque L'essere iscritti Ai gruppi Dagli amici Che potrebbe essere Una bella funzione A volte è pesante E allora Come si fa Quando si vuole scappare via Da gruppi In cui ti hanno incluso Esempio Questa è la mia pagina Personale Dentro la mia applicazione Di Facebook Si va dentro Il proprio nome Che in realtà Poi contiene Le varie Le varie Come dire Le funzionalità No? Le varie Le varie settings Le varie impostazioni E si va dentro gruppi Quando si clicca su gruppi C'è l'elenco dei gruppi In cui si è iscritti Per cui per esempio Io mi voglio discrivere Da questo Amici dell'isola Che non so come mai sono iscritto Vado su iscrizione E abbandono il gruppo E via Posso disattivare le notifiche O proprio abbandonare Completamente il gruppo E in questo modo Si è fuori Dall'incubo Delle notifiche Dei gruppi Che è uno dei mali Del nostro presente Non è esagerato Adesso L'ho un po' fatta grossa Però 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 Senti Invece qualche consiglio Visto che Insomma Il tuo pubblico È non solo adulto Ma anche molto giovane Quindi ci sono i ragazzi Che vanno a scuola Che hanno ricominciato Quindi A studiare Dopo Essere ritornati Ormai da una settimana A scuola Non so Magari Qualcosa Che possa Aiutarli Sì Perché Anche le applicazioni Possono essere d'aiuto Per studiare Allora Ce ne sono alcune Che vi consiglio Caldamente Adesso Poi soprattutto Ragazzi Che si tornano a scuola E via E se non sono i ragazzi Sono le mamme Ditele ai vostri ragazzi Perché Usare il telefono Non è necessariamente Solamente Perdere tempo Ci sono delle applicazioni Per esempio Una che si chiama Stay focused Stai concentrato Sta Y Focused Che in sostanza Ti obbliga Con uno stratagemma A rimanere concentrato Su quello che stai facendo Cioè tu accendi l'applicazione La metti lì E c'è un alberello Che cresce piano 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 E deve arrivare A crescere tutto Perché hai stabilito Che per un'ora Il tuo telefono Non lo tocchi Se togli quell'applicazione Perché ti sei distratto E hai letto una notifica Vuoi andare a vedere Chi ti ha scritto su WhatsApp Muore Muore E ti senti in colpa Perché l'alberello Che era bello rigoglioso Si secca e muore Oppure un'altra Che serve per pianificare lo studio Si chiama I I I studiez E vi aiuta a pianificare Tutto quello che dovete fare Oppure Readme Che è una che serve Per la lettura veloce Imparare a leggere Velocemente Le applicazioni Ma perché le applicazioni Non esistevano Quando noi eravamo piccoli Mannaggia Perché non esistevano i cellulari Esistevano i fogliettini Quelli per copiare E anche oggi salutiamo Ramintano Che chi è interessato Può contattarti E può farlo Cercandoti su Facebook Come Marco Camisani Castorari Grazie Wow